Buonasera, buonasera a voi. Allora, tutti noi sappiamo o possiamo saperlo che la guerra che attualmente è in atto in Palestina ha mietuto molti, ma molti, ma molti più morti di quanto non sia successo nella guerra in Ucraina e questo malgrado in Palestina il conflitto si sia scatenato a partire dall'ottobre 2023, quindi poco più di sei mesi e invece la guerra in Ucraina è in atto da oltre due anni. Ecco, e malgrado questa differenza, differenza temporale, in Palestina ci sono già molti, ma molti, ma molti, ma molti più morti. Tra l'altro la cosa drammatica che ci sono molti, molti più morti tra gli adolescenti, tra i bambini rispetto a quello che è successo finora in Ucraina. E questo, guardate, non perché magari Putin sia più buono, ma semplicemente perché Putin non potrebbe mai permettersi di fare una guerra come quella che sta facendo invece Israele e Netanyahu. Putin non può radere al suolo il Donbass, l'Ucraina, perché la storia lo condannerebbe pesantemente, perché insomma gli ucraini sono pur sempre i fratelli, i loro fratelli, e quindi lui deve cercare di fare in modo che ci siano meno vittime possibile fra i civili. Poi noi sappiamo perfettamente che in una guerra questo è molto, molto complicato. Fare morti civili pari allo zero è impossibile, è una cosa praticamente matematicamente impossibile, però lo testimoniano i numeri confrontando i due conflitti. Sicuramente da un lato c'è il tentativo di sterminare un popolo, un territorio, dall'altro c'è il tentativo di intervenire strategicamente su certi obiettivi per costringere l'Ucraina a sedersi ad un tavolo, a un tavolo delle trattative, e discutere sulla cessione del Donbass e sull'indipendenza del Donbass. Ma veniamo, veniamo a Matteo Renzi. Ora vi faccio ascoltare un breve video e poi lo commentiamo insieme. Israele sta commettendo un genocidio? No. Perché? È evidente che da uomo che ama Israele spero che presto ci sia un cambio della guardia e Netanyahu lasci. Spero che lasci per l'interesse di Israele e della pace nel Medio Oriente. Ma tutto ciò premesso, questo non toglie di una virgola, il fatto che il genocidio che si è commesso ai danni degli armeni nel 1915, degli ebrei nel 1943-45, non è tecnicamente la stessa cosa che si sta consumando. A Gaza dove ci sono una vicenda terribile, drammatica e assolutamente da bloccare il prima possibile, per bloccarlo il primo messaggio è che va fermato Hamas. Perché nessuno ha ucciso tanti palestinesi quanti ne ha uccisi Hamas. Israele sta commettendo un genocidio? Allora, cioè partiamo dalla fine, partiamo dalla fine. Cosa? Nessuno ha ucciso tanti palestinesi come Hamas? Ma di che cosa stai parlando Matteo Renzi? Voi capite che questo è un clamoroso falso, non è il primo da parte di Matteo Renzi. Perché vedete, noi possiamo e anzi dobbiamo probabilmente, non solo probabilmente, dire tutto il male possibile di Hamas. Dobbiamo dire che sicuramente Hamas non ha fatto finora gli interessi del popolo palestinese. Mandare a dire che Hamas ha fatto più morti di quanto ne abbia fatto Israele e Netanyahu è un clamoroso falso da parte di Matteo Renzi semplicemente per coprire una responsabilità ben precisa di Israele e cioè quello sì di aver commesso un genocidio. Altro che non è un genocidio. E tra l'altro quando Matteo Renzi parla tecnicamente non è un genocidio. Ma cosa stai dicendo? Cosa vuol dire tecnicamente? Il problema riguarda i numeri, i numeri che stiamo vedendo tra la popolazione in particolare, i bambini che hanno perso la vita e interi villaggi rasi al suolo, ospedali distrutti completamente con dentro pazienti. Israele se ne è fregata altamente delle vite umane e quindi è colpevole di un genocidio. A meno che caro Matteo Renzi tu sia talmente superiore che la pensi in maniera talmente più oculata di quanto giusto per citare un esempio abbia fatto il governo sudafricano che invece che invece è andato all'Aia e ha denunciato per crimini per genocidio Israele. E non è il solo paese che lo ha fatto. Vedete ancora una volta questo personaggio che tra l'altro avrebbe dovuto essere lontano dalla politica da molti anni fin da quando così disse che se avesse perso il referendum sarebbe uscito dalla politica ma sappiamo tutti si è dimostrato in questi anni un grandissimo quacquaraquà Matteo Renzi lo dimostrano anche i suoi numeri partitello del 2% quello che dimostra e possiamo legare questo video a un altro tema brevemente del quale vi parlo sempre che esiste un sistema un sistema che vuole orientare i governi le masse e Matteo Renzi è sicuramente un uomo uno dei primi diciamo che è aderito a questo progetto ed è la ragione per la quale lui è ancora in piedi ed è ancora un leader nel nostro paese perché i numeri direbbero il contrario no perché voglio dire uno che ha un partitello del 2-3% com'è possibile che conti così tanto in un paese e venga ascoltato venga interpellato tutti i giorni come Matteo Renzi l'unica ragione è un uomo del sistema se non addirittura forse uno dei il rappresentante più importante fra l'Italia e gli Stati Uniti perché lo sappiamo è che da lì che parte però insomma un falso come quello di dire che Hamas ha ucciso più palestinesi di Netanyahu questo no ripeto possiamo dire tutto il male possibile è giusto farlo nei confronti di Hamas ma questo caro Matteo Renzi ancora una volta da parte tua è un clamoroso falso con questi vi saluto vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani